Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI ci sono code a tratti tra la Strassigna e l'allacciamento per la 1 in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, code a tratti tra Badesse e Siena Nord in direzione Siena. Scambio di carreggiata tra Cole Valdelsa Sud e Badesse in direzione Siena. Sulla statale 1 Aurelia, scambio di carreggiata per lavori tra Fonte Blanda e Montiano in direzione Grosseto. Sulla statale 3 BIS, Tiberina, riduzione di carreggiata per lavori tra Madonnuccia Poggiolino e Pieve Santo Stefano Sud in direzione Ravenna. Chiusi gli svincoli di Madonnuccia e Pieve Santo Stefano Sud. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!